Musica Emozioni, colpi di scena e un nuovo amore nell'aria. Antonella Fiordelisi è tornata in Italia dopo l'avventura a Pechino Express, sembra che il suo cuore abbia già trovato un nuovo rifugio. Dopo il flirt con il calciatore del Torino Ricci, l'influencer Campana ha tirato l'attenzione di un altro calciatore, il centroavanti ufficiale del Torino Antonio Sanabria. Scopriamo tutti i dettagli di questa nuova storia, ma prima clicca su iscriviti per rimanere sempre aggiornato e per darti il tuo fondamentale supporto. Chi è Antonino Sanabria? Classe 1996, calciatore paraguaiano dal look dannato e ribelle. Sembra avere una vita personale altrettanto intrigante. Sposato con Maria Breton, una donna discreta che raramente compare sui social. E padre di tre figli, i quali sono spesso i protagonisti delle sue pubblicazioni. Nel video vi mostriamo uno scambio di like tra Antonella e Antonio. In un'epoca in cui la società dell'informazione si nutre di dettagli social, questo rappresenta il segnale di un possibile legame. Ogni like e ogni follow rappresentano un tassello importante. L'articolo che abbiamo scoperto è stato pubblicato da Fabrizio Corona. Figura sempre attenta alle dinamiche della vita delle celebrità. Non possiamo confermare al 100% la veridicità di queste voci, ma l'entusiasmante trama che si sta sviluppando merita sicuramente la vostra attenzione. Cosa ne pensate di questo nuovo capitolo nella vita di Antonella Fior de Lisi? Commentate qui sotto e non dimenticate di lasciare un like se siete curiosi di scoprire tutti i segreti di questa avventura amorosa. Iscrivetevi per non perdere i prossimi aggiornamenti e sintonizzatevi per un viaggio nel mondo dei gossip più succulenti. Grazie per averci seguito e a presto! Grazie per aver guardato il video!